bravo edizione di questo palio sta partito. Adesso per prima cosa facciamo la premiazione alla migliore coreografia e al miglior comportamento. Dopo facciamo la premiazione del palio di premio proprio e infine l'estrazione dei premi. Casualmente a tutti i partecipanti del palio senza saperlo partecipano a questa estrazione, quindi tireremo su un nome a caso e quella persona fortunata che c'era uno dei dieci premi che abbiamo messo in palio. Bene, allora una cosa da dire innanzitutto è che il premio sulla coreografia e il comportamento è stato deciso dai giudici del palio, dai giudici federali mi dicono, e questa votazione, mi hanno detto di riferirlo, è stata suddivisa in un primo voto da 0 a 10 sulle coreografie e un secondo voto da 0 a 10 sul comportamento perché sia per loro sia per noi la cosa più importante era lo spirito di goliardia e di felicità e di stare in compagnia di unione del paese e che chiunque abbia partecipato. Sono sicuro che tutti quelli che il venerdì sera erano in piazza con noi, in questo momento a ripensarci sentono la pelle d'oca come la sento io. è stata un'emozione unica, perciò vando alle ciance passiamo alla premiazione della miglior coreografia e il comportamento, prego monti sul palco insieme a noi il caporione di Caola Villa! dobbiamo! Mi ha detto di scrivermi le cose così non sbaglio. Ora passiamo alla quarta posizione. In questo momento io esigo il più grande applauso che farei stasera. Lo voglio per la quarta posizione del Paglio che va a Rion della Piazza. Bravi! Che un rappresentante salvi sul palco per la suddetta medaglia. Gaparione! 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 Salta giù! Salta giù! Salta giù! Forza piazza! Al terzo posto! Si aggiudica! Terta posizione! Il rione di Via del Sotto! Un applauso! Bravissimi! Mi si gaiole là! Oh, nel centro! Nel centro, oh! Su, su, su! Applauso! Un applauso! Deve sentirvi alle sotto! Non si sente niente! Grazie! Grazie! Grazie a tutti! Per come creda! Diciamo grazie a tutti gli altri regioni! Boera! Piazza! E Cauda Luna! E per gli altri nel prossimo anno! E sarà meglio! Cauda Luna! Cauda Luna! E con la prima della Piazza! Cauda! 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 Tortina! Tortina! Adesso non vi è più la sorpresa, però che veniva qua un attimo il capo Rione sul palco che chiediamo la medaglia. E dopo... Tutta la via buera qua sotto adesso. Tutta la via buera qua sotto. Tutta la via buera qua sotto. Tutta la via buera qua sotto.